Salvate la vita alle vostre amiche, fate girare questo video, il truffatore di Tinder, il truffatore, Frank, il truffatore di Tinder, il film è quello che veramente mi fa cadere le braccia. Allora, fate girare questo video perché io ho un film così tristemente vero e nello stesso tempo così folle, veramente, film documentari non l'avevo mai visto. Mi sono, sapete che io non prendo appunti per i video ma stavolta l'ho fatto perché veramente se no mi cadono le braccia e anche i coglioni. Allora, cosa succede in questo film che disegna e racconta una storia vera? C'è un turbo zanza che va sulla famosa applicazione Tinder, la più scaricata al mondo fino a qualche anno fa, 250 milioni di download e quindi parliamo di qualcosa che superava all'epoca anche Amazon, eccetera. Cosa succede? Succede che è una storia vera di un ragazzo e poi il residente mi parla a te la vive, eccetera, che insomma fa lo zanza. Cosa fa? Prende per il culo donno, le fa innamorare e alla fine viene arrestato. Tanto il film è un documentario, non sto spoilerando nulla, ma il problema è che escono di quelle robe che adesso cercheremo di analizzare. Tra l'altro, otto cose su dieci che qui mi sono segnato e Frenchi ci sono... bacio? Mi dà un bacio? Non mi dà un bacio. Fa bene, ha paura della telecamera, lui è sospettoso. Vedi, lui è sospettoso, le donne invece no, ok? Le donne no. Allora adesso andremo a raccontare tutte le contraddizioni che io ho raccontato in questo libro. Tra l'altro c'è un capitolo bellissimo, questo è il mio ultimo libro, non l'ultimo che pubblicherò, l'ultimo che è uscito e già qua dentro c'è un capitolo sulle chat e un capitolo c'era proprio e c'è descritto tutto. Tra l'altro ci sono anche tante cose delle quali ho preso appunti che ho ritrovato in questo libro, ok? Poi farò un altro video sul boom boom ciao eccetera eccetera. C'è il capitolo sul toy boy, il capitolo miffi, il capitolo sulla differenza tra amore eccetera. Poi c'è un capitolo proprio, guarda, le chat. Le chat e c'è proprio citata anche Tinder. Allora, cosa succede? Attenzione! Allora, a un certo punto inizia a raccontare la sua storia una ragazza norvegese, no? E cosa succede? Che mentre stindera ti racconta Tinder. Introduzione! Che uomo cerca la donna e quindi che uomini cercano le donne? Digiamolo, digiamolo, come direbbe Ignazio, ok? Diciamolo. Allora, cercano un uomo, parole testuali, ambiziosi, con la fresca, con il grano e che soprattutto Così siano uomini di mondo, quindi grano, soldi, ambizione, ovviamente anche belli. Quindi cosa vogliono? Il principe azzurro. Capitolo sul libro sul principe azzurro. Vogliono uno con gli soldi? Vogliono uno completo, ok? Vogliono un cane, come ho sempre detto, ma vogliono un cane che sbrana le pecore e che sbrani le pecore e che curi le pecore. E no, dimmi che cazzo di cane vuoi, perché tutto, il principe azzurro non c'è, esiste nelle favole. Invece loro vogliono tutto, quindi già partono per andare su una chat dove trovi spesso poca roba e con l'idea di poter trovare tutto. Ma ci sta, a qualcuno è riuscito questo gioco, ma dipende sempre dall'ambizione, da come ti poni, eccetera. Però loro partono con un livello altissimo, quindi vanno, schippano, stendono, eccetera, e vengono colpite, appunto mi sono preso a punti con chi ha delle foto particolari, quindi foto in spiaggia, foto fighi. Cosa succede? Che questa ragazza norvegese, ragazza insomma anche mi pare di 33 anni, che è una delle tre vittime del film, poi in realtà le vittime sono molto di più. Poi, lo dico, siccome su Instagram ho raccontato anche la storia del palabolista preso in giro da un amore che non esiste in Brasile, cioè questo palabolista ha versato una cifra ancora maggiore di quella che viene menzionata nel film di Tinder. Quindi voglio dire, oggi tocca alle donne, un domani toccherà agli uomini, sapete che sono duro ma sono giusto, non faccio distinzioni. In questo caso rido di come tante donne non abbiano barriere, così come ho riso sia sul libro e riderò sul discorso degli uomini che veramente a volte superano le donne nell'essere proprio babbi. E per l'uomo è un aggravante, perché l'uomo ha più razionalità al di là del fatto di cadere in amore, fall in love, tombe, tombe amore, anche in francese è proprio cadere nell'amore, quindi nel perdersi. Allora, tornando al film, quindi loro schippano le foto che non interessano e trovano interessanti invece con quelle con determinate foto. Cosa succede? Questa ragazza non veicese trova uno, puttana Eva, che guida gli aerei, ha una ditta di diamanti, viaggia dai Berghia 5 Stelle alle Ferrari e questo qua, fanno il match, no? Tu piace a me, mi piace a te, match e quindi poi iniziano a scriversi. Ma io dico una cosa, e poi cosa fanno? Ovviamente, prima non c'erano le chat come spiegavo così, prima era ti trovavo sulla chat, ti incontravo, poi invece ovviamente uno poi va a vedere il nome e cognome, chiede il nome e cognome vero, ci si inizia a parlare e cosa fa? Una va a vedere su Google, su Instagram e poi ci si iscrive su WhatsApp, quindi si forma un pregiudizio. Quindi uno ha anche del materiale per capire di più oggi, una volta andavi sulle chat incontravi una o uno. Ora, invece, prima di incontrare ti fai un pregiudizio, quindi ovviamente il truffatore, cioè lo zanza, cerca e si crea una storia all'infuori di Tinder. Quindi ha un sito, una cosa, tutto studiato d'arte, no? Anche gente che è il finto bodyguard, la finta figlia e la finta fidanzata, o la finta ex moglie, scusate. Quindi questa controlla e in effetti si trova tutto al proprio posto, però non gli fa la domanda, perché la prima domanda che devi fare a uno, cioè qui racconta che prende, no? Poi alla fine hanno baciato, abbiamo fatto l'amore, va bene, ma lui devi dire, ma tu che cazzo ci fai su Tinder? Ma tu su Tinder, che cazzo ci fai? Ma uno di quel livello, cioè ti ha sul telefono, a parte che non deve neanche, cioè vendi diamanti, sei bello, cioè hai l'aereo privato, cioè hai le donne che ti inseguono. Qui parliamo di calciatori che giocano in Serie C in Italia, che hanno file di fighe che li inseguono. Qui parliamo di cantantucoli che fanno mezza canzone e hanno file chilometrate di fighe che li inseguono. Questo qua, o io gli avrei detto, scusa, ma che cazzo fai? Che cazzo fai su Tinder? Che non devi neanche far così, prima che scocchi le dita hai già le fighe aggrappate al carrello dell'aereo. Quindi uno si fa, non glielo chiede. Perché uno potrebbe dire, come nel film delle sfumature, guarda, io ho la libidine per andare con le sfumature, perché vivono una vita da jet set, no? E quindi quella è una risposta valida. E lui dice, ah ok, quindi la libidine per le sconosciute non stai cercando l'amore. Già uno si mette in guardia, o almeno sa, perché invece loro stanno cercando il Principe Azzurro. Attenzione, perché le due cose, come ho sempre spiegato, non vanno d'accordo, vero Frankie? Eh. Ora, non gli chiedono niente. Cominciano a frequentarlo, poi questo qua fa finta di vedere le crisi, gli chiede il grano. E queste qua fanno i prestiti. Una è norvegese e una svedese. Meno male che le donne al nord sono emancipate, sveglie e autonome. Brave, brave. Perché quelle che vengono citate sono così sveglie, che vanno a fare i debiti con nove banche diverse per dare i soldi a uno che poi si blocca la carta e vengono truffate in maniera camorose. Ma non truffate dal marito, dalla moglie o dalla fidanzata a dieci anni. Da uno che hanno conosciuto su una chat e con cui sono state a letto una volta due. Perché? Perché poi lui le invita, le fa andare in un albergo figo, fanno all'amore, tutte queste cose qua. Poi cosa succede? Aspetta, che lui ovviamente ha una bambina. Fa vedere la bambina perché? Perché avere figli crea fiducia nella donna. Ecco perché gli uomini sposati vanno così di moda. Io ho sempre detto perché? Sposati con figli. Perché il fatto oggi nell'epoca in cui nessun uomo si prende responsabilità di nulla, quello che dicono le donne, nessun uomo si prende responsabilità. Il fatto che tu hai dei figli e li segui per la donna è molto importante per il nido. Ma anche se esce con te una sera sa che non sei uno zanza, che non sei, di solito non sei una persona, insomma avendo dei figli hai una responsabilità verso altri e quindi eviti di fare cazzate. In teoria è così. Ora cosa succede? Che infatti nel film lui poi si presenta con i figli, ma si presenta anche con l'ex moglie. Cioè lui dice guarda questa è la mia ex moglie, viaggiamo insieme e le donne perché tollerano l'ex moglie? Perché c'è il grano. Perché se no se tu esci con una, guarda esci con una e la seconda volta c'è l'ex moglie questa ti dice vai affanculo, ma risolvi i tuoi problemi, no ma lei no. Invece siccome c'è il grano, nel grano vanno tutti d'accordo. Anche se gli diceva guarda questa è la mia ex moglie, queste qua sono le mie dieci ex mogli, siccome c'è il grano loro accettano. Quindi accetta perché c'è il grano. Ovvio, l'ho sempre detto, le donne hanno un'eccitazione naturale per il denaro. E questa cosa anche se la negano è vera. Più la negate più io dirò che è vera. Perché è vera. Ora, cosa succede? Il ruolo delle amiche. Le amiche, dream, vero Frankie? Dream sono la sveglia. Le amiche, no? Quando l'amica scrive stai sto andando con l'aereo privato dall'altra parte dove cazzo vanno, da una parte dell'altra dell'Europa, eccetera eccetera, dicono ma chi hai trovato? Occhio, guarda che potrebbe essere pericoloso, ma non potrebbe essere un trucco, potrebbe essere qualcosa che, attenzione che ti rapiscono. Le donne, sai, quelle che sono fuori, che non sono coinvolte, danno la sveglia all'amica. Ma siccome le donne non hanno amiche vere, ve lo dico io, ne granno? Frega un cazzo, perché se tu hai un amico vero uno ti prende, ti parla, c'è un certo rapporto. E invece è tutta una gara tra amiche. Quindi lei è talmente concentrata, è un po' dentro questo sogno, questa favola. In più è talmente concentrata nel postare cose, tanto che fa il filmino sull'aereo privato. Quindi è talmente questa libidia di mostrare quello che farebbero risicare le altre, no? In amicizia, che non ascolta però quello che le altre dicono e così si ficca nei guai. Detto questo, poi c'è l'altra svedese, no? Quella che poi ci esce non si è divertita, non si è innamorata, è stata bene. Quindi è stata bene vuol dire ci esco ancora. Quindi vuol dire che, dice, non è il mio tipo, non siamo finiti a letto. Però alla fine è stata così, è stata bene perché era pieno di grano. Però sei talmente emancipata, talmente brava, talmente sveglia che anche tu, anche la svedese del film, che tra l'altro sono storie vere, gli dà un sacco di soldi e così un sacco di altre donne. Poi lui viene arrestato, rilasciato troppo presto. Comunque questo vedetelo nel film. Ora, conclusione. Ovvio che poi gli uomini facciano tutto per i soldi. Gli uomini fanno tutto per i soldi. Gli uomini zanzano, quando vedete, non so, dal politico all'imprenditore, fanno tutto per i soldi. A quello che fa lo zanzano lui stesso al ladro. Perché fai tutto per i soldi? Perché con il grano hai la possibilità di avvicinare le donne in maniera molto più rapida, perché ti viene perdonato un po' tutto. E allora ecco perché gli uomini poi fanno qualsiasi cosa per avere il grano a far carriera. A volte anche in maniera disonesta. Ora, che cosa abbiamo imparato da questo film? Che è incredibile come nel 2021-2022 ci siano situazioni dove il pregiudizio, dove i campanelli di allarme non ci sono e proprio non esistono. Lo danno solo le amiche ma sono inascoltati. Tutto quello che io ho raccontato poi l'ho tematizzato in questo libro con parecchi capitoli, fatti e domande e risposte e alla fine c'è scritto tutto. C'è scritto quello che dovrebbe essere un rapporto sano, quello che dovrebbe essere un rapporto amoroso, vero, perché ci sono delle regole dalle quali non si esce. Ok? E soprattutto quello che puoi fare o non fare a seconda del rapporto che hai. E soprattutto i campanelli di allarme. Ok? Ora, come dico sempre, fate girare questo video per approfondire la cosa tra voi. Se avete domande scrivetemele. Ve l'ho detto faremo tante live sul discorso rapporti copia. Se vi interessa il libro sotto si può comprare su Amazon oppure mi scrivete alla mail, ve lo mando in cartaceo con lo sconto perché su Amazon c'è solo in pdf. Ora, bisogna avere la patente non solo per guidare una relazione ma per trovare il fidanzato o la fidanzata o la moglie o il marito. E ovviamente se uno va su certe chat o semplicemente conosce certe persone uno si deve svegliare. Perché se no poi si finisce nei libri della Lucarelli dove parla degli amori tossici che da un lato ci sono e ci stanno. Cioè ci sta, penso che ci sta l'amore tossico, a parte che quello è anche un passaggio. Poi spiegherò tutto questo di quello che Lucarelli non ha compreso. Secondo me quando fa questi libri molto per andare incontro a quello che le donne vogliono sentirsi dire e invece ci sono altre analisi da fare ma che sono molto più profonde perché a volte dobbiamo fare degli errori, tutti li abbiamo fatti, io per primo per poi crescere. Ma quello è un altro discorso. Quello che dico io è che non è possibile che le donne che si ritengono le più sveglie al mondo, le più emancipate, lo dicono loro, di colpo, le svedesi, le norvegesi, le olandesi poi alla fine sono le più babbe e si fanno abbindolare in questa storia vera che è diventata addirittura un docufilm che trovate, insomma, mi pare, non so se su Netflix. È una cosa allucinante e tutti possiamo essere zanzati, truffati, l'assegno, quello, quello che ti chiede, però c'è veramente un limite, non solo, ci deve essere un contesto. Cioè non è che arriva uno, arriva e tu sei lì, ci sei uscita mezzavolta e gli dai 150.000 euro. Queste sono le cifre, cioè siamo a dei livelli allucinanti, ok? Fatemi sapere, occhi aperti e soprattutto imparare che se la cosa più importante della tua vita sono le relazioni, così come la donna cerca il principe azzurro, almeno informati su cos'è l'amore, il sesso, le relazioni, l'autismo, il gioco delle coppie, cerca di capirti e di capire. Perché se no la cosa che più vuoi non la conosci e ci cadi. Ma qui non solo le donne, gli uomini che vogliono determinate cose e non sanno come prenderle, come gestirle e anche come, a volte capita, farle finire nel senso di rottamarle in maniera buona senza che le cose finiscano male. Perché poi è sempre importante, insomma, anche nel finale lasciarsi bene. Un caro saluto e una roba allucinante sto film.